Fino Veltri, buongiorno, questa mattina siamo qui, l'abbiamo disturbata perché siamo a conoscenza del fatto che il comune di Paola ha fatto dei tagli sul sociale, lei è una delle persone più in vista in questo settore perché si fa portavoce di tutte le istanze delle persone che soffrono la disabilità, anche l'indigenza perché oltre ad avere una figlia che purtroppo è stata colpita da problemi che ne hanno condizionato l'esistenza in maniera molto vigorosa e anche impegnato in tutte quelle attività come Paola Immensa e tutto quello che riguarda il sociale. L'ultima volta ci eravamo visti sul lungomare dove i bambini hanno trascorso una piacevolissima giornata con una marcia in più, però a quanto pare il comune questa marcia l'ha sgranata. Il comune ha messo una marcia indietro, invece doveva una marcia in più, perché dall'altro giorno c'è arrivata la bella notizia che all'1.25 mi arriva una telefonata e mi dicono da domani le ragazze a casa tua non ci vengono più. Praticamente il comune ci ha sospesso il servizio di assistenza alla persona. Puoi immaginare cosa viene in una famiglia dove si vive con l'aiuto delle persone che vengono a casa ad aiutare tua figlia, a farla vivere decentemente come tutte le persone normali che vivono. È stato un colpo molto forte che ancora non riusciamo a riprendere, ad assorbire. Siamo andati in comune, ci hanno detto che siccome non c'erano più soldi dovevano sospendere il servizio, anzi già avevano fatto pure di più, però se dobbiamo andare avanti il servizio ce lo dobbiamo pagare noi. Lei già ha pagato abbastanza perché per la disabilità che ha sua figlia ha dovuto spendere bei soldi per un ascensore. Il comune quando è stato possibile con un'altra amministrazione le ha praticamente realizzato questa scala che vediamo alle nostre spalle. Adesso invece vi lasciano al vostro destino e addirittura chi rompe paga e i cocci sono suoi. Sì effettivamente è proprio così perché quando un'amministrazione ti viene a dire vuoi il servizio? Ci devi pagare. Cioè è un'assurdità. Cioè se io ho i soldi non vengo da te a chiedere, mi umilio e vengo da te a chiedere aiuto. L'aiuto non ne ho voglia di aiuto di nessuno se ho i soldi, me la faccio da solo. Cioè io vengo da te mi sto umiliando, non ho soldi. Anche perché i stipendi non arrivano. Vengo a chiedere e tu sul mio aiuto mi chiedi i soldi. Cioè non voglio dire parole più grosse però si capisce poi alla fine il senso dove voglio arrivare. Cioè però... Lei che è a conoscenza sicuramente per via del problema che attraversa di tutte le situazioni paolane, simile alla sua, secondo lei quante ce ne sono? Ma simile alla mia... Cioè sono varie varie situazioni. Cioè andiamo dai casi più gravi ai casi meno gravi, quelle che vengono aiutate. Però alla fine siamo tutti gravi. Cioè poi la disabilità c'è quello che riesce ad avere una percentuale più alta, più bassa. Però alla fine siamo tutti portatori di handicap, siamo tutti quanti persone che abbiamo bisogno di aiuto. Chi più, chi meno, ce l'abbiamo tutti. Però sul nostro disagio, sul nostro aiuto ci metto a chiedere i soldi. È assurdo. È una questione di vita, di morale, di vita. Cioè loro possono fare una scelta politica. Cioè perché hanno la legge da loro parte? Non ci sono i soldi e noi vi aiutiamo. Però non so se è meglio aiutare uno che ha bisogno con piccoli soldi e poi invece di fare feste, festicelle e roba varia. Ripetiamo sempre le stesse cose e cadiamo poi nel ridicolo. Ecco, sua figlia ha 19 anni e ha scritto una lettera toccante che domani verrà pubblicata sui quotidiani e anche sulla nostra testata. Che tipo di sensazioni ha provato quando è stata resa consapevole di questa nuova tegola che si è abbattuta sulla sua vita già appesantita? Cioè mia figlia anche se non parla, però ti fa capire con gli occhi, con l'espressione che c'ha. È rimasta sconvolta. Perché giustamente se tu la mattina c'è qualcuno ti dà aiuto, tu prendi un bambino piccolo, se nessuno la lava la mattina, cioè rimane sporco. Se a mia figlia non viene lavata la mattina, non viene imboccata, non viene girata la testa, non viene fatta tante cose, cioè non risolvere, cioè è come viene abbandonata là. Cioè io lavoro, mia moglie c'ha da mandare avanti una casa, c'ha da mandare avanti un altro figlio. Cioè per lei ci vogliono 24 ore su 24 di assistenza. Anche perché con gli assistenti poi si instaurava un rapporto anche emotivo che adesso verrà troncato. Sì, gli assistenti sono gli angeli custodi di mia figlia, cioè senza di loro non, veramente non riusciamo a vivere. Loro vengono, di loro volontà a venire, anche se non vengono pagati, se non vengono retribuiti, se non vengono fatti, perché ce l'hanno dentro, perché amano mia figlia. Come mia figlia, come tutti gli altri bambini dovevano andare a fare i sedi dei servizi. Perché è un mondo a parte. Se poi tu leggi la lettera che ha scritto mia figlia, ti rendi conto quello che ha potuto dire, quello che pensa. Una lettera che dall'1.25 di qualche giorno fa non ha più senso, però purtroppo. è così. Grazie.